Noi dalla canziena Campania di Nola, Nicola Valeri, la grande dina piccola e Giuseppe Nappa vi ricordiamo Napoli nel cuore, un libro per Napoli, per i napoletani e per tutti quanti voi. E soprattutto comprare il libro, dare il vostro contributo e soprattutto leggetelo. Perché noi andiamo bene, viva Napoli e i napoletani. Un abbraccio da noi.